Di modo che siamo proprio coperti a 360 gradi, metterei la... si potrebbe prendere anche la pista a mano, questa, prendo la mano e mi sposto più in qua. Il Sergio lo mettiamo su questo lato qua a mano e mi fai un primo piano di... Lings! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.